Come sta cambiando la sanità nel post pandemia e con le possibilità del piano nazionale di ripresa e resilienza? E' stato questo il quesito principale di un incontro tenuto a barletta nella sede di IUAI alla presenza del direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro e l'intervento da remoto del sottosegretario alla salute Andrea Costa. L'appuntamento, il terzo del ciclo di incontri e i sud, è stato quello giusto per fare il punto della situazione sanitaria pugliese nel presente ma già con uno sguardo rivolto al futuro. Il sottosegretario Costa non ha dubbi, rispetto al passato c'è un'inversione di tendenza, i tagli sono sostituiti con gli investimenti. Al di là delle risorse del PNRR abbiamo investito molte risorse, abbiamo incrementato di 2 miliardi il Fondo del Servizio Sanitario Nazionale e verrà incrementato anche nei prossimi anni. Ripeto, oggi siamo di fronte a un'inversione di percorso rispetto ad anni di tagli. Oggi c'è la consapevolezza che è fondamentale investire in sanità e in salute e quindi credo che abbiamo davanti a noi una grande opportunità. Investimenti che passano anche e soprattutto dal personale sanitario. Oggi c'è la consapevolezza che dobbiamo investire in personale, sotto questo aspetto ci sono risorse importanti, abbiamo aumentato le borse di studio, le abbiamo quasi triplicate, c'è bisogno di far tornare attrattiva anche la figura del medico di medicina generale, c'è bisogno di potenziare le nostre oltre 19 mila farmacie sul territorio che rappresentano un presidio e garantiscono capillarità, c'è tutto il tema della digitalizzazione, della telemedicina. Nel corso dell'incontro con il sottosegretario Vito Montanaro ha annunciato che da settembre ci saranno i primi 5 percorsi digitalizzati diagnostico terapeutico assistenziale sia per pazienti trattati in ospedale che per pazienti trattati a domicilio. Poi il direttore del Dipartimento Salute della Puglia si è soffermato sulla rivoluzione che il PNRR porterà al territorio. Si prospetta il finanziamento di una rivoluzione che avevamo già immaginato molto prima che il Covid facesse capolino nella nostra vita, penso che il finanziamento che il PNRR ci metterà a disposizione, un finanziamento che avrà un effetto booster su un processo di cambiamento che è iniziato già qualche anno prima che il Covid arrivasse e che ha lo scopo di creare un ponte reale tra il territorio e l'ospedale. Infine Montanaro, come il sottosegretario Costa, non ha dubbi. Oggi il pezzo mancante è il pezzo del capitale umano, quello sul quale bisogna investire. Iguai, che ha promosso l'appuntamento, è pronto a fare la sua parte. Momento unico, tempo zero, con cui dobbiamo indirizzare tutti gli sforzi. Siena Steyang vuole essere un facilitatore per orientare tutti questi sforzi, queste azioni che già esistono verso il raggiungimento e la massimizzazione dei risultati.